Al mondo è nato il gran verbo incarnato, a voi si invia questo, questo è il Messia. Non più timore che a Beclemme vicino troverete un bambino in un tuburo. Ognuno va da sicuro, è altro fattore, consacri il cuore, consacri il cuore. Al mondo è nato il gran verbo incarnato, a voi si invia questo, questo è il Messia. Al mondo è nato il gran verbo incarnato, a voi si invia questo, questo è il Messia. Grazie.